Piccolo ma di grandissima dinamica festa del mare per l'edizione 2013 del SISAN, celebrato già ieri sera a Salerno, il momento del confronto registrato la dimostrazione pacifica dei pescatori e dei residenti di Pastena, hanno interloquito col vice ministro De Luca invocando la riqualificazione della zona e la gestione in comune più equa delle risorse disponibili. Un polmone per produrre risparmio ai posti di lavoro, è questo il depuratore per il sindaco di Nocera Superiore, Montalbano, sollecita la determinazione della gestione e dello sviluppo produttivo. Intanto parlamentari grillini in tour tra le bombe ecologiche dell'intera campagna anche per raccogliere il grido d'allarme e la richiesta di aiuto degli oncologi. La pagina sportiva, un manifesto della Curva Sud, l'ultima novità in Casa Molossa quando sembra essere definitivamente sfumata la possibilità di una trattativa con Lombardi. I tifosi rilanciano le loro dichiarazioni d'amore per quello che i colori rosso-neri rappresentano ma chiariscono, non accetteranno alcun tipo di ricatto morale.